Allora ragazzi, oggi faremo una sorpresa a Janssen perché mi è arrivato questo gioiellino Egovax, D-Watt X1 e Omni L'altro giorno sono entrato nella sua stanza e sono svenuto Ho pensato, perché non pulire la camera di Janssen e fargli una sorpresa? Ok, portiamolo nella sua stanza Ok, prima di avviare la pulizia direi di un attimo ordinare per terra Dato che non penso che l'Ecovax sia stato progettato per fare uso di rampe mentre pulisce Quindi ordiniamo un attimo Ok, tolta qualcosa dal pavimento, possiamo far partire nel frattempo la pulizia Perfetto, dall'applicazione di Ecovax possiamo Sì, vabbè, perfetto, nel frattempo che mio cugino qua fa la sua Mettiamo in ordine la stanza A partire da quel tab I piatti se li lava lui, col cazzo li lavo io Una brioche Delle tic-tac ben remix Questo tappetino è fantastico It's fantastic Camomilla del giorno prima Queste li portiamo pure in cucina This, now it's mine Perfect, the table is clean Then, ma perché sto parlando in inglese? The bed The bed Letto fatto, un'umbrella. Adesso facciamo tornare mio cugino alla base, che qua ha già fatto assai. Boom! E così torna alla stazione di ricarica, che è nell'altra stanza, quindi ci metterà tipo una mezz'oretta. Vabbè, con calma. Nel frattempo noi andiamo, now, to the kitchen. He's gonna be surprised. Adesso chiameremo Jansen e vedremo la sua reazione in diretta. Bro, your room exploded. What the fuck? You have to come here now. Ora aspettiamo Jansen e vediamo la sua reazione. Dov'è, do? Tutto questo è stato reso possibile grazie a ECOVAX sponsor di questo video ECOVAX X1 e Ommy a Spirellava vi aspetta a un prezzo imperdibile 899 euro anziché 1299 400 piripippi di sconto Scade domenica che oggi, affrettatevi, link in descrizione È un aspirapolvere scioccante, la dotazione è completissima Arriva con una base che funge da base di ricarica Per lo scuotamento automatico del cassetto della polvere E per il lavaggio, anch'esso automatico, dei due panni rotanti L'aspirazione e il lavaggio sono entrambi ottimi Gli unici difetti che ho trovato è che l'altro giorno c'era una banana per terra E non è riuscito ad aspirarla Davvero scandaloso, lo reporterò all'azienda Dall'app potete vedere come il sensore LiDAR faccia un'ottima mappatura della casa In modo tale che voi possiate poi selezionare quali a ripulire e quali non pulire Molto bene il riconoscimento degli ostacoli Li evita e se riconosce tappeti e sta pulendo Non ci va Geniale Design e costruzione assolutamente promossi Pesante, rigido e resistente L'app è fatta molto bene, dalla possiamo decidere quanto potentemente aspirare Con quanta prepotenza pulire il pavimento, gestire la mappa, azionarlo, farlo andare alla base Soprattutto si può accedere allo streaming in diretta di quello che vede la telecamera del robot L'altro giorno ad esempio stavo spiando Jansen mentre ballava in cucina L'autonomia è scioccata Circa 200 metri quadri di aspirazione o 150 di lavaggio Ma tanto non importa perché a Milano vivi in un monolocale di 5 metri quadrati Ha pagato una modestissima cifra di 2.000 euro al mese Egovax, X1 e Omni, aspira e lao Egovax per Dario Turrisi, aspira e lao Come una donna